Salve a tutti, oh, questo mouse va molto veloce, diciamo così, ok, prima di iniziare facciamo un applauso agli sponsor che rendono sempre disponibili questi eventi, chi siamo noi? Introduzione, Cloud Solution Architect qui in Microsoft, ci occupiamo principalmente di sicurezza informatica, Edoardo poi si presenterà più da me, io da meno di un anno, avete riferimenti al mio sito web, al profilo LinkedIn. Di cosa andremo a parlare oggi? Tre grandi tematiche, abbiamo il nostro ambiente, la nostra infrastruttura e ci poniamo delle domande, come risolvere problemi relativi alla compliance, relativi agli standard, se siamo compliant oppure no, come possiamo mettere in sicurezza tutto il nostro workload e quali saranno gli strumenti che ci aiuteranno a fare tutto ciò? Defender for Cloud e Defender for Cloud Apps sarà una sessione POC style, POC style, cioè andremo a vedere un caso d'uso reale e cercheremo di capire insieme come metterlo in sicurezza. Andremo a parlare poi di abbiamo ambienti legacy, abbiamo sviluppato che non vogliamo per nulla toccare, vediamo gli strumenti che Microsoft ci mette a disposizione per dire ok, cerchiamo di arginare quanto più possibile tutte le vulnerabilità che abbiamo, anche qui andremo a parlare di principalmente Azure Active Directory che credo abbiate visto questa mattina con Marco e così via e Defender for Cloud Apps, per poi parlare di come anche un po' l'intelligenza artificiale ci aiuta in ambito security andremo a vedere Microsoft Sentinel e OpenAI. Lascio la parola a Edoardo, io vi riprenderò dopo. Grazie. Allora, la sicurezza non so per chi di voi c'è a che fare, però di solito funziona un po' come l'agenzia delle entrate, no? Oppure come dire, enti che vengono a controllare, non lo fanno molto spesso, però poi quando lo fanno ci chiedono immediatamente se abbiamo pagato quella multa o se abbiamo pagato quella fattura e quando lo fanno è un po' fastidioso perché devo andare a recuperare tutta una serie di prove che dicono che io quella cosa l'ho fatta. E purtroppo, per fortuna, noi facciamo un po' lo stesso mestiere, no? Compliance e Security funzionano allo stesso modo. Cioè, quando andiamo a mettere i nostri workload in uno degli n strumenti che abbiamo a disposizione oggi, che possono essere o i cloud pubblici oppure, diciamo, i servizi... Scusate. Beh. Torniamo indietro invece che avanti. Ottimo. Trovo qualcosa di diverso. Ok. Come vedete i metodi legacy funzionano comunque ancora molto bene. Quindi, dicevo, una volta che decidiamo un po' quali sono tutte le cose che andiamo a utilizzare per fornire i nostri servizi, devo produrre un servizio. Dove lo metto? Oggi. Cloud pubblici ancora, oppure on-premises, oppure AppSaaS. Ok? Quindi vediamo Teams, Office 365, Salesforce, servizi cloud storage come Box. E quindi, diciamo, in base a quello poi abbiamo bisogno più o meno di utilizzare lo strumento di compliance o security che è preposto a quegli ambienti. Quindi, nell'agenda abbiamo visto che per questa casistica utilizzeremo due prodotti. Il primo è Defender for Cloud, che si occupa di andare a monitorare gli ambienti public cloud e on-premises. E il secondo è Defender for Cloud Apps. Cioè, quell'Apps alla fine che è fondamentale. Perché quando parliamo di Apps, parliamo di tutto ciò che è SaaS. Ok? Che sono fondamentalmente i due modelli oggi più importanti di produzione dei nostri workload. Quindi, che cosa andiamo a fare? Andiamo a dire, ok, il mio capo mi ha chiesto se tutto quello che ho sviluppato fino adesso è compliant ISO 27001, oppure AIPA, oppure il servizio è per la banca, banca PCI DSS, una serie di terminologie, diciamo, in legalese che noi non parliamo molto spesso. Allora, come facciamo a tradurre questi requisiti in qualcosa di più operativo? E a noi serve saperlo subito. Dobbiamo utilizzare uno strumento che lo faccia per noi senza che noi abbiamo quelle competenze. Quindi, che cosa andiamo a fare? Andiamo ad utilizzare Defender for Cloud. Destra. Un'altra scheda. Scusate un attimo. Questa? Yes. Ok. Andiamo ad utilizzare Defender for Cloud che, per esempio in Azure, tiene contezza automaticamente delle risorse che io ho deployato in Azure. Quindi, che io abbia usato un App Service, una VM, un SQL Server, un MySQL in pass, eccetera, eccetera. Azure tiene conto di tutte queste risorse. E Defender for Cloud io gli applico il tipo di regolamentazione che voglio. Cloud Security Benchmark, AIPA, NIST. Potrebbero non essere, diciamo, familiari per voi. Ma è qui che non importa la questione. Perché a prescindere che voi siete familiari o no con queste tipologie di regolamentazioni, per ognuno dei punti che le regolamentazioni ci obbligano a fare, Defender for Cloud ci dice, guarda, è deployato 27 virtual machine che non sono compliant col protocollo NS1 perché non sono protette da Network Security Groups. E questo è un esempio, diciamo, molto semplice. In realtà, io posso prendere uno o qualsiasi di questi controlli e immediatamente andare a vedere se tutte le mie risorse sono compliant oppure no. Come vedete, quelle sono risorse Azure virtual machine. Ma qui parliamo anche di AWS. Quindi non parliamo solo di risorse Microsoft. E questo lo faccio as a service. Clicco un paio di bottoni dentro Defender for Cloud e il risultato è questo. Però noi abbiamo detto che oltre ai workload cloud abbiamo anche le app SaaS. E qui entra in gioco l'altro strumento, Defender for Cloud Apps. Defender for Cloud Apps che fa? Riceve i segnali delle app che vengono utilizzate dagli utenti, li cataloga in applicazioni, quindi Teams, Office, Skype, eccetera. Ovviamente gli utenti, come dire, caso d'uso reale, utilizzano anche cose un po' fuori dall'ordinario. La prima app in alto a sinistra è P-Cloud, un servizio di cloud storage tipo Dropbox, ok? E vedo che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché se io vado a vedere, questo è il punteggio di rischio, ok? Questa colonna qui. È un punteggio di rischio di 8, che non è malvagio, però non è neanche così, diciamo, sicuro. Quindi che cosa vado a fare? Vado a vedere questa app SaaS con quale regolamentazioni è compliant oppure no. Quindi anche in questo caso io posso dire, ok, i miei utenti usano questa applicazione e in un attimo so se è compliant con ISO, se è compliant con SOX, i controlli che sono verdi sono rispettati, i controlli che sono rossi non sono rispettati. Altro esempio molto semplice di arrivare a questo risultato senza saperne di compliance. Ok. Torniamo qui e andiamo a introdurre il nostro caso reale. Caso reale che è il seguente. Ho la mia applicazione sviluppata on-premises, un form di autenticazione, ok? Molto semplicemente. E passiamo dalla compliance invece alla questione di sicurezza, ok? Come faccio invece ad andare a intercettare problematiche in termini di sicurezza? Di nuovo ci verranno in conto prodotti come Defender for Cloud e Defender for Cloud Apps. Una volta che entro nella mia applicazione, ho dei dati che posso andare a consultare, posso fare l'upload di file, quindi ci sono una serie di strumenti di interazione con questa applicazione. Come vado a proteggere ogni fase e ogni strato? Ricordiamoci che la mia applicazione on-premises può essere composta di tanti elementi, ok? Quindi possiamo avere una virtual machine, un app service, uno storage account, un SQL server, tantissime risorse. E teoricamente, da un punto di vista di sicurezza, non è facile andarle a proteggere tutte. Perché per ogni pezzo dovrei inventarmi un componente dedicato. E qui entra in gioco Defender for Cloud. Perché dentro Defender for Cloud ci sono tutti i componenti che mi servono per proteggere tutti questi tipi di workload. E l'accensione, di nuovo, è esa service. Quindi una volta che l'oggetto sta su Azure, io semplicemente abilito la protezione di Defender for Cloud e l'oggetto verrà protetto. Qual è il flusso? Il flusso è questo qui. Quindi ho il mio form applicativo che va a scrivere su un Azure SQL. Questo Azure SQL è offerto in pass e quindi io tramite Defender for Cloud accendo il componente Defender for SQL e Defender for Cloud si andrà a leggere tutta l'attività che viene fatta su quel database. Non solo. Leggendo queste attività, automaticamente io vado ad intercettare le attività di tipo malevolo. In questo caso, nella VOC, vedremo la parte di Potential SQL Injection. Potential SQL Injection, direi che più di qualcuno magari in questa sala sa di che cosa si tratta. È, come dire, un tipo di attacco molto comune in ambito applicativo e per cui, come vengono fatti alcuni controlli, validazione dell'input, eccetera, eccetera, viene fuori molto spesso quel tipo di problema lì. L'altra cosa interessante è che le segnalazioni che vengono poi gestite da Defender for Cloud possono essere automatizzate tramite l'utilizzo di una Logic App. Storage. Stesso discorso. C'è un utente, tramite il form applicativo, viene appoggiato un file dentro uno Storage Container. A quel punto, Defender for Cloud, stessa cosa. Si va a leggere le transazioni che avvengono a livello dello Storage Container e andrà a dire se ci sono delle attività che dal suo punto di vista sono sospette oppure no. Accesso da un'applicazione sospetta, Potential Malware Uploaded to a Storage Account, questo di nuovo sarà il nostro, diciamo, caso d'uso, e poi tanti altri allarmi che fanno riferimento al componente di tipo Storage. Componente Server, più semplice, ok? Mi logro sulla mia macchina virtuale, la macchina virtuale è non protetta, compromessa, viene scaricato un eseguibile malevolo, quelle sono una serie di istruzioni PowerShell malevole, anche qua, tramite Defender for Cloud, abitito il componente per le virtual machine ed ho lo stesso tipo di protezione. Gli allarmi possono essere, ad esempio, è stata fatta, si dice una tecnica di evasion, cioè è stato disabilitato il componente anti-malware, oppure è stato lanciato un PowerShell sospetto. Anche però, come dire, segnalazioni più semplici del tipo, è stato effettuato un logon da un IP che è riconosciuto come malevolo per certo, in quel caso, difficile che la macchina virtuale non sia stata compromessa. Poi, parte di DevOps, ma ci arriviamo dopo perché lo vediamo con Mario, andiamo a vedere questi allarmi di cui abbiamo parlato. Componente SQL, questa è la nostra pagina di autenticazione, sopra, come vedete, posso fare una query al database, però non c'è scritto qualcosa, come dire, di molto leggibile, ma c'è un'istruzione vera e propria. Ora, noi abbiamo utilizzato una innocua che il massimo che fa è restituirti la versione di SQL Server, ma in realtà lì dentro ci potrebbe stare anche un bel drop, ad esempio. Ok? Quindi, queste sono delle interazioni che noi non vogliamo. e la tipologia di allarme che viene rilevata è esattamente questa qua. Potential SQL Injection. Quello è il database, Azure Day POC, è il database che è stato utilizzato per montare quell'applicazione dove sono appoggiati i dati. vado nei dettagli e dentro ho tutta una serie di informazioni molto utili. Innanzitutto, che cos'è una SQL Injection? Perché potrebbe non essere così scontato. Magari io ho una persona che si occupa di sicurezza, però sicurezza si fa in tutti gli ambiti, quindi non è che io so di database e so cosa è una SQL Injection. E quindi ci vengono dati tutti gli elementi. L'IP sorgente che ha fatto quella query. C'è una domanda? Vai. Anche, sì. A lui non interessa qual è il tool che fa la query. Ci può stare un'allarmistica che è in grado di rilevare chi è il client che c'è dietro, perché poi SQL Map si dice a una sua impronta digitale come manda le query. Quindi potrebbe anche riuscire a intercettare qual è il client che ha mandato quella query lì. Che intendi per filtraggio di indirizzi IP? Che è il tp address? Sì, esatto. Allora, qui ci fermiamo alla detection. Dopodiché, se tu vuoi implementare un'azione di misura di risposta come abbiamo detto puoi usare le logic app. Quindi puoi dire ok, tutte le volte che vedi una possible SQL injection prendi l'IP address e mettilo in blacklist. Ok? Questa è una possibilazione di risposta che potresti fare in questo caso. In questo caso fa detection e ti viene citato la table. Esatto. Prevention no. Per la parte di prevention hai bisogno di un componente che fa prevention che in questo caso sarebbe un web application firewall. Sì, sì, no, dico non c'è un'analisi che ti dice la tua applicazione ha questo rischio. Sì. Ah, tu dici ok, saperlo in anteprima? È prima di anteprima. No, perché Defender for Cloud non entra nel merito di come è scritto l'applicativo almeno in questo componente poi vedremo che dopo ce n'è un altro però questo componente si occupa di non legge la parte database quindi se succede qualcosa del database e te lo dico qual è la cosa interessante? Che se tu vai a sommare tutti i componenti che adesso vediamo alla fine ti rendi conto che da dovunque viene l'attacco in qualche modo io ne ho traccia cioè viviamo poi ne parliamo con Mario di questo aspetto qua. Ok stessa cosa per lo storage vado a fare l'upload di un file malevolo ok? File malevolo potrebbe significare tante cose potrebbe essere anche una pagina web con cui poi io buco l'applicazione ci faccio arrivare le persone tramite phishing ad esempio ok? Quindi ho bucato l'applicazione faccio l'upload del mio file malevolo come lo faccio? Avviene un inspection di tipo real time questa è una cosa molto importante questo è il file che io ho uploadato nel mio storage account come vedete ok? egar.dxt e immediatamente defender for cloud ci dice malicious file uploaded to storage account questi sono i dettagli dell'attacco quindi il blob unico che è stato utilizzato per l'upload il tipo di malware che ne possiamo avere diversi e poi abbiamo potential causes ok? cioè ci vengono descritti anche quali possono essere le situazioni diverse per cui avvengono questi tipi di allarmi non è detto che sia per forza un attaccante ci può stare anche un falso positivo di qualche tipo cioè un utente si è sbagliato e ha uploadato l'activator di Windows magari no? cose di questo tipo ecco questi sono tutti casi d'uso che vengono coperti da defender for storage per il server stessa cosa adesso qui diciamo non ve la faccio vedere l'esecuzione dello script in diciamo in slide ma ce l'abbiamo direttamente nell'allarme anche qua apro l'allarme e mi vado a vedere questo è molto interessante c'è lo shadow file insomma ci sono una serie di parametri e poi sotto come vedete troviamo tutti gli elementi relativi a cosa è stato utilizzato per effettuare l'attacco in questo caso è stato utilizzato l'eseguibile del notepad dal powershell per eseguire l'exploit ok bene spero mi tenei divertiti Mario a te sì 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 tutto quello scenario io non lo vedo comunque viene perfetto analizzato ovviamente allora non è che non lo vedi chiaramente perché perché il mestiere questo mestiere si aspetta che lo faccia il UAF si può connettere defender for cloud con gli eventi che provengono dal web application firewall e a quel punto quantomeno ti ne dà contezza ok però chiaramente non è più lui quello che solleva gli allarmi in quel caso però ad esempio se tu coesistere assolutamente tra l'altro se tu hai un WAF che i WAF diciamo molto molte volte sono messi in monitoring invece che in blocking l'attacco tu lo ritrovi da tutte e due le parti quindi te lo trovi sia da una parte che nei componenti che proteggono diciamo che fanno parte della web app quindi il SQL lo storage eccetera eccetera a livello di region chiedo perché lui fa l'analisi dei dati che è un po' calchi sì sono le sedi di ordine sì in realtà no in realtà no perché lui quei dati là la parte di allarmistica sta dentro leisure resource graph e leisure resource graph sta scritto dentro la subscription che sta monitorando ok è locale sì no a meno che non decidi di farci ulteriore elaborazione no vai Mario le domande possiamo tenerle per dopo perché mancano solo 10 minuti è tanto dio addirittura ok è perché tu chiacchieri tanto hai ragione allora nei nostri requisiti abbiamo detto che i nostri utenti e i nostri sviluppatori condividono il codice su GitHub quindi immaginiamoci una situazione abbiamo Defender for Cloud for DevOps che ci aiuta anche a monitorare il nostro ambiente DevOps quindi immaginiamo che abbiamo i nostri sviluppatori condividono il codice su GitHub con GitHub cosa posso fare posso posso abilitare il Microsoft Security DevOps posso creare queste GitHub Action che di tot in tot in base a trigger o in maniera ogni ora ogni 12 ore fanno uno scanning del codice vanno alla ricerca di vulnerabilità che vengono poi catturate da Defender for Cloud e questo risponde un pochettino alla domanda che era stata posta prima immaginiamo qui abbiamo il nostro ambiente GitHub l'ho connesso con Defender for Cloud for DevOps vedo che ci sono due repository abbiamo tre vulnerabilità andiamo a vedere questi repository su GitHub la GitHub Action qual è lo scanning che può avvenire? Code scanning guarda il tuo codice soffre per come l'è scritto di SQL Injection cambialo oppure guarda mi sono accorto che nel tuo ambiente c'è proprio una chiave in chiaro oppure guarda andando ad analizzare le librerie che stai utilizzando ti posso dire che questa libreria è vulnerabile e tutte queste informazioni ce le ritroviamo su Defender for Cloud su Defender for Cloud però questo prodotto Defender for Cloud for DevOps non ci dice per esempio molte informazioni di activity che i nostri utenti stanno facendo nei confronti di GitHub cosa dobbiamo utilizzare? dobbiamo utilizzare un altro strumento che prende il nome di Defender for Cloud Apps Defender for Cloud Apps funziona con il concetto di connettore qui per esempio vedete che ho connesso due stanze di GitHub questa non funziona perché non c'è più la licenza cosa significa avere i connettori? vuol dire che io da Defender for Cloud Apps ricevo tutte le informazioni di quello che i miei utenti stanno facendo su GitHub guardiamo per esempio il primo activity log io qui vedo guarda c'è questo utente admin mng e così via ha cambiato il livello di accesso di questi repository magari questa cosa mi mette mi espone a un pericolo cosa posso andare a fare? posso andare a creare un activity policy qualunque cosa sia un activity policy Defender for Cloud Apps che mi solleva un alert ogni qual volta questa cosa succede infatti qui abbiamo un alert che ci dice guarda in questa data quest'utente nei confronti di questo specifico connettore di GitHub ha fatto questa azione da questo IP e leggiamo tutta la storia al riguardo torniamo di nuovo sulla demo cioè perché io devo essere notificato solamente dopo che i miei utenti hanno caricato per esempio un malware io vorrei bloccarlo in real time qual è lo strumento che utilizziamo? è Defender for Cloud Apps Defender for Cloud Apps ci aiuta molto nella data protection abbiamo detto che funziona con il concetto di connettori io ho diverse applicazioni prendiamo per esempio le applicazioni di storage cosa faccio? le connetto con Defender for Cloud Apps mi mandano tutti gli activity log di quello che sta succedendo e poi io con qualcosa che chiamiamola così governance action anello di controreazione io in base a questi activity log posso andare a dire guarda fai questa azione per esempio Dropbox mi dice l'utente X ha condiviso questo file verso l'esterno verso un utente esterno no io non voglio questa cosa governance action rendilo nuovamente privato però perché lo dobbiamo scoprire solamente anche qui dopo? non possiamo fare qualcosa di meglio in real time? Defender for Cloud Apps lavora anche come reverse proxy l'idea qual è? ho la mia applicazione finale OneDrive ho il mio utente che vuole accedervi abbiamo nel mezzo Defender for Cloud Apps l'idea è l'utente contatta Defender for Cloud Apps fa la richiesta in Defender for Cloud Apps ho tutte le condition per dire ok inoltre alla OneDrive no non inoltrarla qual è il requisito al fine tale per cui questo meccanismo funzioni? è che l'applicazione finale utilizzi i protocolli come SAML 2.0 ma stiamo parlando di Azure utilizza Azure Active Directory come identity provider l'idea qual è? guardiamo il flusso l'utente richiede l'accesso per esempio alla mia applicazione a OneDrive l'applicazione deve autenticare l'utente attraverso Azure Active Directory e in Azure Active Directory ho un qualcosa che si chiama conditional access cosa significa? in base a chi è l'utente in base a cosa mi sta chiedendo in base a quale applicazione mi sta chiedendo di accedere io posso dire non l'autenticare non lo rimandare subito sull'applicazione ma fallo rimbalzare su Defender for Cloud Apps fai mettere Defender for Cloud Apps nel mezzo come reverse proxy cosa succede? succede che qualsiasi richiesta l'utente fa non va sull'applicazione finale va su Defender for Cloud Apps e io lì ho il concetto di session policy policy aggiuntive che dicono ok l'utente X mi sta richiedendo quest'azione ho tutte i condition nei confronti di che file me lo sta richiedendo chi è l'utente da dove me lo sta chiedendo accetto o non accetto decido ok di forwardare l'applicazione la richiesta dell'applicazione però il problema è che l'applicazione che abbiamo visto prima non utilizza Azure Active Directory come identity provider immaginiamoci di avere un'applicazione legacy i nostri sviluppatori non hanno proprio voglia di metterci mano al codice che facciamo? buttiamo tutto? no Azure Active Directory ha il concetto di application proxy chiudo la mia applicazione all'interno di un application proxy che cos'è un application proxy? in realtà è molto semplice abbiamo la nostra applicazione un prem quello che andiamo a fare è creare un endpoint su Azure questo endpoint mantiene una coda di richieste i nostri utenti non conoscono l'indirizzo dell'applicazione che c'è dietro ma contattano l'URL abbiamo la richiesta si mette in coda abbiamo un agent che è l'unico che sa che dietro a quell'URL endpoint di Azure c'è l'applicazione questo agent cosa fa? immaginiamoci ogni mezzo secondo va all'endpoint e dice c'è una nuova richiesta c'è una nuova richiesta si c'è una nuova richiesta la inoltre all'applicazione l'applicazione gli risponde all'agent l'agent risponde all'endpoint e l'endpoint effettivamente soddisfa la richiesta all'utente qual è la potenzialità di aggiungere questa application proxy? è che io posso prendere la mia applicazione un prem chiuderla completamente su internet farla parlare con l'agent e l'idea qual è? l'idea è che ho protetto la mia applicazione di prima dal brute force attack dall'uploading del malware perché su questo applicativo possono cadere solo coloro che si sono autenticati con le credenziali di Azure Active Directory lì e vai a fare brute force attack lì su Azure non ce la fai potenzialità aggiuntiva l'applicazione di prima io la posso proteggere in real time l'esempio quando l'utente prova a caricare un malware l'applicazione la richiesta arriva all'endpoint l'endpoint la manda in reverse proxy a defender for cutouts faccio lo scannering in real time e il malware non va proprio a finire sullo storage finale andiamo a vedere questo è il ninja cat la mascotte quello che andiamo a fare noi adesso yes non la prendiamo da nessuna parte però allora andiamo a vedere un attimo se la rip ok vi volevo far vedere come era fatta su Azure questo lo chiudiamo real time detection l'idea qual è? è quella di avere le cosiddette conditional access policy qui in Azure Active Directory cosa mi stanno andando a dire? ogni qualvolta questi specifici utenti mi stanno chiedendo di andare a cadere sulla nostra applicazione con prem che abbiamo abbiamo fatto l'app registration su Azure cosa devi andare a fare? non li autenticare non li buttare direttamente sull'applicazione che stanno richiedendo ma farli passare per Defender for Cloud Apps l'idea qual è? l'idea è che in questo momento sto dirottando il traffico verso Defender for Cloud Apps in Defender for Cloud Apps ho le cosiddette session policy una session policy è molto semplice è quella che vedete ogni qualvolta leggiamola in questo modo ogni qualvolta Defender for Cloud Apps si mette nel mezzo cioè in reverse proxy e l'utente prova a fare un uploading di un file tu cosa devi andare a fare? devi andare a fare uno scanning in line e se è un malware lo devi bloccare però possiamo fare cose un pochettino più interessanti Edoardo non vi ha fatto vedere qui immaginiamoci che questo sia un gestionale e che questi a fianco questi iconi blu siano la possibilità di scaricare dati sensibili degli utenti quando Defender for Cloud Apps si prova in reverse proxy nel mezzo riceve questa richiesta del download e io posso creare degli scenari del tipo se ti faccio scaricare questo file se e solo se mi dimostri di essere effettivamente chi dici di essere cosa significa? ti richiedo la multifactor authentication scenario molto semplice perché alla fine si lavora anche qui con le conditional access policy col concetto di authentication context col concetto di authentication context che significa ogni qualvolta gli utenti ti hanno chiesto di fare questa cosa cioè ti stanno richiedendo di qualcosa authentication context file grant se e solo se abbiamo vabbè non si carica require multi-factor authentication quindi passa sopra tipo organizzatore ok allora vediamo se riesco a fare al volo Azure day eccola qui io qui sto andando a cadere nell'endpoint di Azure che abbiamo creato mettiamo le credenziali queste qua queste qua bello sta provando se funziona brute force attack ho preso quelle giuste ok ve lo faccio vedere di qua M365 sicuro che il tenant è lo stesso MNG e V ok è l'altro tenant qui dopo un po' una con le credenziali improvvisazioni live non è una cosa da poco corregge insomma ok allora quindi sto provando a cadere sull'endpoint adesso la password dovrebbe essere giusta ma no no è giusta è giusta lui mi dice guarda ti ho autenticato però sappi che non stai parlando con l'applicazione direttamente finale ma Defender for Cloud Apps è nel mezzo la sessione è monitorata infatti ce ne accorgiamo dall'url che leggiamo in alto ora che si carica che è mcas.ms eccolo qua mcas.ms cosa vi volevo far vedere che nel momento ah qui abbiamo la tastiera inglese sempre più difficile che nel momento in cui io provo a caricare dai speriamo che mi dice eccolo cosa è successo in realtà è successo che l'utente ha provato a caricare un malware Defender for Cloud Apps l'ha preso gli ha fatto uno scanning al volo e gli ha detto tu non lo puoi caricare perché questo è un malware stessa cosa nel download immaginiamo proviamo a scaricarci un file questo file ha del contenuto sensibile degli utenti lui dice sì io te lo permetto di scaricare se e solo se Multifactor Authentication quindi si possono creare vabbè non mi metto a farlo perché abbiamo altri due minuti di live altri cinque perché abbiamo iniziato un po' più tardi giusto giusto però gli leviamo un po' di coffee break però va bene lo stesso no ragazzi ok li facciamo portare qua meglio di così ok allora e vi introduco quest'altra vediamoci questa animazione va cosa fa qua ah non fa niente ok allora un altro strumento Microsoft che ci può venire incontro è Microsoft Sentinel che cos'è Sentinel? è un CM e un SOAR CM Security Information Event Management cioè uno strumento che riceve i log da diversi sorgenti e ci dà degli strumenti per analizzarli ma anche un SOAR Security Orchestration Automation Response è successo qualcosa in maniera automatica con delle logic app rispondo e orchestro tutte le mie misure di sicurezza quindi abbiamo il nostro Sentinel abbiamo diversi sorgenti possiamo prenderci tutti gli allarmi che avete visto prima su Defender for Cloud prenderli e mandarli a Sentinel tutti gli allarmi della suite di Microsoft Defender 365 che abbiamo Defender for Identity Defender for Cloud Apps e così via tutti i sign-in logs per esempio di Azure Active Directory ma anche tutte le altre fonti l'idea qual è è che io creo delle analytics che quando identificano un determinato pattern sollevano un alert sulla base di questo alert cosa posso andare a fare? posso andare a triggerare delle logic app che fanno le più disparate cose e ispirati da questo articolo molto bello poi andatelo a leggere un blog molto semplice abbiamo creato una semplice logic app che integra misure di sicurezza con OpenAI Edoardo ve ne parla allora gli allarmi vengono prodotti da diversi prodotti no? questo è il punto e quindi noi abbiamo bisogno di centralizzare il nostro punto di raccorta con questi questi allarmi per poi dire se hai un allarme che diviene da una piattaforma e un allarme correlato che diviene anche da un'altra piattaforma fai delle azioni automatiche questo appunto ci viene in conto però noi diciamo volevamo anche essere di moda e quindi non potevamo non diciamo inserire OpenAI in questa in questa presentazione che cosa vedete? vedete una logic app non so se le avrete mai usate dove all'interno ci sono gli stemp che ovviamente provengono dal trigger come tipo di oggetto di un incidente dentro Sentinel cioè un incidente di sicurezza e quindi vado a fare delle reazioni quali sono le azioni? vado a vedere tutte le lavorazioni che vengono fatte su quell'incident ok? perché si presuppone che ci siano degli operatori che al lancio di un determinato incidente vado a fare poi un'investigation quindi vado a vedere tutte le attaglie che abbiamo visto sulle varie piattaforme e commetti l'incidente per dire è successo questo questo e quest'altro ci lavorano tante persone ok? quindi il concetto è come faccio a riassumere in maniera leggibile da parte di qualcuno che magari è il capo della sicurezza che non sa i singoli task che vengono fatte dalle singole persone cosa è successo dall'inizio alla fine end to end e quindi che cosa facciamo? siccome è molto usato lo strumento dei commenti ok? quindi l'operatore lavora un incidente e dice ho fatto questo ho controllato quest'altro quindi abbiamo detto per raccontare la storia di questo incidente chiediamo come farlo a OpenAI e quindi il percento di applicazione che vedete GPT-3 complizio a prompt fa proprio questo prende in input tutti i commenti che sono stati aggiunti sull'incidente riformata dentro un'email e li manda a chi vogliamo probabilmente al capo della nostra sicurezza e quindi adesso questo è un focus su quello che viene fatto a livello di step di GPT come vedete qui c'è diciamo una parte di commento dinamico questi sono i parametri che sono prodotti direttamente da Sentinel attachment content qui in questa tabella ci sono tutti i commenti che sono stati inseriti nella lavorazione dell'incidente e questo è lo step automatizzato dove mando l'email dove ho dato le informazioni a Sentinel riguardo i commenti e mi viene inviato l'output in questo caso vabbè c'è l'email dell'admin ma potrei mettere l'email del mio capo della sicurezza andiamo a vedere diciamo dire che cosa si tratta e cosa possiamo andare a fare poi questa è la logic capo possiamo eseguirla sia a mano oppure metterla in un processo automatizzato di esecuzione questo è il risultato ok un file di testo abbastanza leggibile se uno ovviamente diciamo ha un minimo di informazioni di sicurezza questo è il nostro file malevolo di cui abbiamo fatto l'upload sulla nostra app e queste sono le recommendation ok quindi delle indicazioni su delle possibili investigazioni che possono essere fatte in alto dove vedete i comments vedete tutti i commenti che sono stati inseriti dagli operatori che hanno lavorato l'incidente please stop team it is time to start to investigate questo è un e-card file usato per un proof of concept l'ip è stato aggiunto alla lista degli indirizzi ip diciamo che ci piacciono ok quindi abbiamo un indirizzi ip che magari è aziendale andiamo a vederlo proprio super rapidamente si hai lavorato l'altra parte la parte la parte di contesto gli viene data sulla parte delle recommendation si all'inizio lo estruisci guarda un incidente report è fatto così 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 questi sono i dati te lo facciamo vedere subito scusa aspetta vediamo un attimo alla fine e poi ci focalizziamo sulle domande ce l'abbiamo qua tra l'altro ok questo è l'incidente su Sentinel potential malware uploaded ok sono stati inseriti dei commenti i commenti li vedo guardando i dettagli dell'incidente queste sono tutte le entities che sono state diciamo osservate ok poca hql ci andiamo a interrogare la tabella dei security incident scusate lo zoom chart type html table e questo sarà l'output che viene generato noi qui vi stiamo facendo vedere una iterazione diciamo con successo ok quindi qui vedete esattamente i dati con cui che sono stati inseriti in input per generare questa tipologia di automation quindi poi che cosa facciamo prendiamo il risultato e l'andiamo a spedire in modo formattato tramite email e questa è l'email ok bene direi che era l'ultimo domande sai che il pricing non lo so perché tra l'altro noi abbiamo utilizzato il primo periodo mi pare sia di trial quindi diciamo per un tot diciamo di tempo c'è un certo limite di interazioni e poi c'è un pricing dedicato e non so tra l'altro se ancora in preview probabilmente non c'è un pricing definitivo no non c'è un pricing definitivo sì sicuramente guarda vatti a vedere poi il il blog perché ovviamente insomma c'è altri tecnicismi dentro e secondo me quello diciamo come draft poi può essere utilizzato ovviamente in tutti non so chi c'era prima ok la domanda era su F2 dove qui anche se era visto comunque quello che ha il SQL e l'upload e l'upload e l'upload e l'upload tra l'upload e l'upload quando ci sono queste due che cambiano ad esempio le lette e è una bella se vedete in realtà non riesce a notare sì quindi per S dovreste ascoltare un po' quindi la domanda ma perché non è stato un chat GPT insieme a l'upload allora diciamo che integrare chat GPT dentro le logiche di un antivirus ad oggi è abbastanza complesso specialmente è un processo molto asincrono quindi è difficile tu la detection la devi fare live su un sistema in produzione quindi non ti puoi permettere di andare a chiedere in giro diciamo un parere su quella cosa che viene eseguita l'unico motivo per cui puoi decidere di farlo vieni qua che la domanda è la tua l'unico motivo per cui puoi decidere di farlo è se l'antivirus non ha come dire le definizioni l'antivirus si basa su un database di cose statiche che lui sa che sono malevole per certo dove non arriva l'antivirus arriva un altro componente che si chiama endpoint detection and response fa l'analisi di tutta la telemetria di quello che succede sull'endpoint e ti sa dire qualcosa di più quindi di quel componente probabilmente si sarebbe comportato più o meno come si è comportato chat GPT a fronte di una elaborazione ulteriore nel merito del dato che tu hai utilizzato per fare quel tipo di operazione quindi prima di arrivare al chat GPT ci sono altri componenti che si avvicinano al tipo di detection che hai chiesto tu e che sono presenti sull'endpoint che è fondamentale perché se tu non ce l'hai sull'endpoint questo tipo di protezione arrivi troppo in ritardo ok vatti a vedere la definizione di EDR ti spiega molto bene come viene fatto come viene intercettato questo tipo di attacco qui ok sì vuoi parlare tu vado io allora ovviamente i prodotti sono diversi quindi diciamo i costi c'erano Defender for Cloud Defender for Cloud Apps Azure Active Directory mentre Defender for Cloud Apps Azure Active Directory vanno a licensing tipo Office cioè ho 10 utenti devo comprare 10 licenze Defender for Cloud funziona come i workload di Azure quindi si pagano a consumo ok si pagano a consumo chiaramente variano anche il base al numero di risorse che proteggi se tu hai 100 database per ogni database mi pare che paghi 15 dollari per dire ok e la protezione del componente a seconda del componente se database storage eccetera la granularità varia quindi o puoi proteggere l'intera subscription oppure puoi proteggere singoli database però l'abilitazione a quel punto non la fai da Defender for Cloud ma la fai da dentro l'oggetto c'è un tab che si chiama security o Defender for Cloud adesso non mi ricordo e lì lo accendi solo esatto per quel DB ok però 15 dollari lo storage invece va a transazioni invece che ha invece che ha storage account ci sono state delle innovazioni sul licensing del componente storage poi vattela a guardare cioè o per transazioni fino a un certo numero però se hai un miliardo di transazioni evidentemente non conviene e quindi a quel punto ti fanno licenziare invece lo storage account singolo ok ogni componente ha il suo pricing ok e i primi 30 giorni se lo volete provare è gratis quindi questo magari aiuta per provarlo ok grazie 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 grazie